Ancora ben trovati dalla redazione di Florence Multimedia in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada sulla 1, rallentamenti per mezzi in lento movimento tra BV1 Variante e Sasso Marconi in direzione di Bologna. Sulla Firenze Mare restano code per viabilità esterna che non riceve tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola in direzione di Firenze. E arriviamo in Fipili, per lavori troviamo coda di 2 km tra Montelupo e Ginestra in direzione Firenze e in carreggiata opposta coda di 1 km tra la Strassigna e Montelupo. Ricordiamo che si tratta di lavori per il miglioramento della sicurezza tra Montelupo e Ginestra con restringimenti, percorsi alternativi sulla SP12 o per i tragitti più lunghi sull'autostrada 11. Sempre in Fipili rallentamenti per traffico nelle due direzioni all'altezza di Firenze e Scandicci. E prima di salutarci per il traffico urbano di Firenze ricordiamo l'appello del Comune a utilizzare il meno possibile il mezzo privato quest'oggi a causa di tre eventi di grande rilevanza in corso a Firenze. Tutti i dettagli sui nostri canali social. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio!